I dolcetti aiutano sempre un rapido recupero! Ma come si può spiegare questo a un medico severo? Meglio far entrare i dolcini nascosti in ospedale senza farsi notare! Buon pomeriggio! La mia amica ha bisogno di aiuto! Che gli è successo? Si è rotta un dito del piede! Va bene, allora dovresti vedere il dottor Johnson! Uh, c'è mancato poco! Un vero amico ti aiuterà sempre, soprattutto se hai fatto di dolci! Caramelle! C'è un intruso! Aspetta! Vergognati, è un ospedale! Non ti è permesso portare qui i dolci! Mi dispiace, non lo farò più, lo giuro! Devo eliminare tutto! Oh no! L'ascensore è bloccato! Sembra che l'eliminazione abbia avuto successo! Perché no? Il cioccolato è la migliore cura per lo stress! Il cibo dell'ospedale non può tirarti su il morale! Il pranzo! Che schifo! Odio i pomodori! Vorrei che ci fosse una barretta di cioccolato! Oh, è un messaggio di Frank! Che sorpresa! Sto arrivando, dolcezza! Ciao, bello! Ho un intero cestino dei tuoi dolcetti preferiti per te! È un bene che Jess ami le sciarpe lunghe! Wow! Questo mi curerà sicuramente! Grazie, Frank! Dolci dolcetti! Finalmente! Siete meglio di qualsiasi medicina! In ospedale si possono vedere tutti i tipi di pazienti! Buon pomeriggio! Come stai? Vedi un po' tu? Oh, guarisci! È così vanitosa! Non è difficile nascondere i dolci! È difficile portarli! Il piano funziona! Devo solo arrivare in camera! Oh no! Le mie caramelle! Oh, la felicità era così vicina! Bene, bene, bugiarda! Butta via il resto! Wow! Quante caramelle! Non dovrebbero essere sprecate! Rimanere in ospedale è molto noioso! Per di più, non si può nemmeno accontentare se stessi con una delizia! Ho succo di frutta e Nutella! Ma il dottore può entrare da un momento all'altro e portare via tutto! Idea! Le faremo credere che questi sono dei campioni! È un'idea geniale! Ecco qua! Buon appetito! Grazie! Ora sono meno triste! Delizioso! Ragazze? Che stanno facendo? Ah ah ah! Successo! Salute a noi, Jess! Oh, non mi sento bene! La la la! Oh, non ce la faccio più! Ci dica dove andare! Il reparto maternità è laggiù! Inspira, espira, espira! Il nostro piano funziona! Ups! Questa è una sorpresa! Ah, aspetta! Arrivo! Oh! Stai bene? Vuoi un po' di anguria? Beh, sembra che questi ragazzi non siano pronti a fare i genitori! Dottore! Questa è la fine! Cos'è successo? Il mio Archibald è malato! Guardi! È terribile! Dobbiamo agire senza indugio! Il paziente ha bisogno di aiuto subito! È diventato verde! Non si preoccupi, salveremo Archibald! Dov'è il paziente? Eccolo lì! Questo è un fiore! È proprio così! Giù le mani dal mio Archie! Come vuoi! Significa troppo per me! Lo porterò io! Vieni, tesoro! Wow! Questo è un ospedale e dobbiamo aiutare tutti! Ti ci abituerai! Non ho mai visto niente del genere! Ha funzionato! Archie, sei fantastico! È ora di prendere i miei preziosi dolcetti! Oh, cos'altro serve per essere felici? Oh, fa così male! Benvenuta nel nostro ospedale! Come posso aiutarti? Non posso camminare, vede? Oh, poverina! Il Dottor Hill la riceverà tra dieci minuti! Grazie! Ehi, ragazza! Dove vai? Abbiamo l'ascensore! Oh, certo! Grazie! È difficile pensare a causa del dolore! Buona giornata! Beh, non mi vedranno qui! Miam, 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 miam! Ehi, aspetta! Il pane non è permesso! Salve! Ho un appuntamento con il Dottor Mitchell! Prima ti controllo per le caramelle! Ma non ne ho! Fammi vedere lo zaino! Va bene, ma perde solo tempo! Ora lo vedremo! Beh, è vero! È vuoto! Come le ho detto! Uh, non sospetta nulla! È ora di prendere le mie caramelle! Wow, c'è un vero e proprio nascondiglio lì! Cosa non farebbero i pazienti per le loro caramelle preferite? Oh, buongiorno! Siediti! Vediamo un po' cos'hai qui! Oh no! Sta zitto! Scusi! Per fortuna ho con me il mio foglio speciale! Mmm, così va meglio! Sì, la ascolto! Ancora una settimana e ti faccio dimettere! Ma tra un mese dovrai fare un check! Ora porta questo al registro e sei libera! Ragazza, hai dimenticato il tuo foglio! Mmm, ha un profumo delizioso! Questo è un foglio di zucchero! Proprio come ha ordinato il dottore! Vorrei che ci fossero più pazienti così! Delizia! Dovremmo rompergli un'altra costola? Beh, potrebbe essere d'aiuto! Colleghi, ecco cosa abbiamo confiscato! Quante chicche ho preso dai pazienti! Evviva dolcetti! Oh no, non di nuovo! Sono così stanco! Wow, che fortuna! Questi tesori sono miei! Beh, se puoi fare uno spuntino dolce... Non lasciare i dolcetti incostoditi! Il prossimo! Ehi, non ti è permesso portare cibo qui! Lascia qui i tuoi dolci! Darei tutto per il cioccolato! Ne sarei davvero felice! Ciao! Hai del cibo? Cosa? No, non ne ho! Ho solo il mio lettore! Beh, puoi ascoltare la musica! Il tuo medico ti sta già aspettando! È stato facile! Un dolce lettore! Geniale! Il prossimo! Dov'è il dottor Adams? Eccola! Dottore! Aspettate! Uno alla volta! Vi chiamo tra dieci minuti! Dieci minuti! Oh, le mie dita! Oh, che pazienti irrequieti! Sono riuscita a scappare per miracolo! Essere un medico non significa che non ti piacciono i dolci! E sembra che al dottor Adams, amante dei dolci... Non dispiace infrangere qualche regola ospedaliera! Mmm, adoro i dolcetti! Beh, quei pazienti aspetteranno! Non dimenticare di prenderle due volte al giorno, Jess! Hmm, che ci fa qui questa cannuccia? Oh, la uso per arricciarmi i capelli! Ecco, guardi! A proposito, questo è un bel trucco! Ehm, se lo dici tu... Se n'è andata? Fantastico! È ora di sorseggiare la mia bevanda preferita! Sì, questa medicina mi piace molto di più! Oh, devo avere la febbre! Calmati, Zoe! Non è così grave! Apri la bocca e ti controllo la gola! Togli la maschera! Oh, cosa? Wow, che tosse terribile! Bene, ecco le tue pillole! Riposati! Tornerò più tardi! È la mia gola, dottore! Se l'è bevuta! Ha bisogno di pillole se ci sono i dolci! Ti piacciono i dolcetti? Raccontaci quali sono le tue caramelle preferite nei commenti sotto al video! Ti è piaciuto il nostro video? Beh, metti un like! Iscriviti al canale e clicca sulla campanella! A presto!